Come hai scritto un libro per me stesso? Poi l'ho scritto per i pazienti perché molto spesso abbiamo delle storie di malattia che sono assolutamente simili anche se con malattie diverse e al paziente magari può fare un sollievo, sapere che altri hanno dovuto fronteggiare la malattia e ne sono usciti direi vincente da questo confronto. La condivisione nel famoso rapporto medico paziente di cui si parla tanto e che io trovo oggi sempre più carente è proprio sapere trasmettere il conforto. Il paziente ha bisogno di conforto per affrontare questa specie di corsa ad ostacoli che dovrà fare per curarsi e questo ha bisogno dell'aiuto del medico. Molto spesso il medico è quello che perché non ha tempo, perché non ha gli strumenti necessari per accompagnare il paziente nella sua corsa ad ostacoli, crea angoscia invece di creare conforto. Quello che conta è poter affrontare la malattia, curarla e affrontarla serenamente senza vedere un muo contro il quale uno ha la sensazione che sta andando a centrarsi. In realtà non avevo e adesso l'ho sperimentato. Cosa vuol dire essere dall'altra parte della barriera? Ed è tutto diverso. Diciamo che la prognosi diventa un fatto quasi trascurabile. La qualità della vita che ero convinto fosse legato alla tossicità dei farmaci antitumorali e tutto questo è cambiato completamente. Oggi capisco che perdere i capelli, vomitare, avere un po' di diareno non ha nessuna importanza, assolutamente nessuno sulla qualità della vita. La qualità della vita è come ci sentiamo dentro, come viviamo la nostra vita di tutti i giorni. Per viverla bene, anche col cancro, molto spesso bisogna essere aiutato. E chi meglio del medico può aiutare il paziente? La vita è una cosa meravigliosa e uno se ne accorge forse ancora di più quando si deve affrontare la malattia. Prima della malattia io ero immortale, nel senso che non avevo mai pensato che un giorno la vita sarebbe finita. Per cui potevo anche permettermi il lusso di buttarne via una parte. Se un bene è infinito, è chiaro che lo possiamo consumare in un modo, come dire, incoerente. Il giorno in cui uno si rende conto, perché la malattia obbliga a affronteggiare il fatto che un giorno dovremmo morire. Allora ad un colpo questa vita che diventa un tempo relativamente, cioè non è più infinito, diventa assolutamente il bene più prezioso che si ha e che uno avrebbe voglia proprio di vivere al meglio ogni secondo. La morte fa paura in quanto la morte degli altri ci ha fatto paura, ci ha lasciato soli in un qualche modo. Ma nella propria morte questo senso della tragedia non c'è. La morte, quando sarò morta, non sarò certo qua a piangere sul fatto che sono morta. Per cui la morte viene vista oggi, io la vedo come un fatto fisiologico. Se c'è nascita c'è per forza morte, il più tardi sarà il meglio, ma non è un fatto tragico. Lo posso affrontare in un modo, diciamo, razionale. Non mi fa paura. La sua autobiografia in quattro righe? Sono nata, ho lavorato, ho avuto un figlio e adesso cerco il mio equilibrio per questa fine della mia vita. Cosa direbbe ai suoi colleghi, ora come medico e come paziente? Io dico state più attenti al paziente. È stato fatto recentemente un'indagine da parte dell'Associazione Italiana dei Medici Oncologi e ha rilevato che in un ambulatorio di oncologia, che quindi fa, diciamo, la diagnosi o i controlli, la terapia e queste cose qua, che in media una visita, credo in media in Italia, dura tra i 15 e i 18 minuti, il paziente parla un minuto e mezzo. Il resto del tempo parla il medico. Ha questa specie di disco registrato in cui racconta tutto quello che sta succedendo. Non è questo che vuole il paziente. Tante informazioni. Non è poi questo veramente di cui ha bisogno. Il paziente ha bisogno di essere rassicurato, di essere confortato, di essere coccolato, di essere preso in mano da questo medico. Ma se non ha la possibilità di parlare, di dire io vorrei sapere, non parla. Il paziente è fondamentalmente muto. Se oggi potesse realizzare un sogno, cosa chiederebbe? Vita semplice. Che tutti potessero fare una vita rilassata e semplice, senza tutti questi beni, senza i soldi, senza questa angoscia che viene. Senza soldi non si può fare niente. Poi perdo la casa e allora... E tutto questo, secondo me, fa vivere male inutilmente. Perché, come si dice, i soldi uno non se li porta nella tomba. Per cui è inutile, ecco, accumulare. Non ha nessun senso. A me il mio sogno è che questo sparisca tutto, che si potesse vivere tutti in pace, magari con molto meno di quello che c'è adesso, ma che la vita ritornasse a essere molto più serena e semplice, più semplice. Non c'è bisogno di avere i SUV per essere felice. Grazie.